Per la giornata nazionale degli alberi, in programma il 21 novembre, è istituita al fine di educare i giovani alla conoscenza della natura e a comportamenti sostenibili. I carabinieri della forestale Campania hanno donato al comune di Napoli un esemplare dell'albero di Falcone, il ficus che cresce vicino la casa del giudice vittima di mafia nel 92. Quest'anno le celebrazioni si inseriscono nel grande progetto di educazione alla legalità ambientale Un albero per il futuro, promosso dai carabinieri con il Ministero della Transizione Ecologica. Alla cerimonia a Palazzo San Giacomo presenti alcuni alunni dell'Istituto Tecnico Antonio Serra e del comprensivo Giovanni Falcone di Pianura, con l'assessore al verde Vincenzo Santagada ed il vice sindaco Maria Filippone. Questo gesto certamente noi lo consideriamo un vero e proprio auspice, sulla valenza simbolica dei semi e degli alberi si è già detto. Io posso dire che noi oggi attraverso questo atto rafforziamo le gambe e alleanze, soprattutto nel nome dei giovani. Vi voglio ringraziare, ci sono qua una rappresentanza delle scuole napoletane, c'è il seda, c'è l'Istituto Comprensivo Falcone intitolato proprio a Giovanni Falcone. I ragazzini sono qui con i loro disegni a rappresentare la valenza della scuole napoletane di oggi, legalità, ambiente, tutela dei diritti. Devo dire che è una gioia per tutti quanti noi e in modo particolare per me. Grazie.